Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del venerdì che a sto giro è uscito di giovedì di Captain Tsubasa Iniziamo subito con una schermata nuova di Trinka che mi ricordava vagamente, ma molto vagamente, la schermata che avevamo proprio agli esordi del gioco tra il 2017 e il 2018 Poi in realtà sono andato a vedere, in realtà non è che era proprio così, però non so perché, mi ha dato un po' quei feels quando l'ho visto all'inizio Vabbè, al di là di tutto quanto, cosa hanno fatto con questa schermata? Hanno raggruppato tutti gli eventi PvE nella modalità storia e tutti gli eventi PvP nella modalità sfida Con place le partite di serie, quindi partite di serie, partite di rango ed eventuali partite di coppa in modalità sfida, tutto il resto lo trovate nella modalità storia Nell'home page ci mettono anche un reminder per ricordarci quante dreamball ci mancano per scalare allo step successivo della classe premium Nella fattispecie per quello che riguarda il sottoscritto 61, non preoccupatevi cara club Ho un 1150 dreamball di cuscinetto per Aoi se dovesse uscire al Dreamfest Mano a mano che ne accumulo 50 per volta mi ributto su Rabe, perché sto tornando nella scatola dei regali? Sto tornando nella scatola dei regali perché inizialmente qui c'erano le notifiche che invece adesso sono state spostate sopra Partiamo con le notifiche più importanti che sono quelle che non sono segnate all'interno del gioco in questo momento Ovvero che nel database sono già state caricate le immagini di una nuova versione di Galvan, una di Pascal e una di Diaz Tutte e tre con la maglia dell'Argentina, supposizione mia, supposizione In genere il Super Dreamfest di fine mese dovrebbe essere diviso tra un banner con un nuovo giocatore giapponese e un banner con un nuovo giocatore straniero C'è stata qualche eccezione, tipo il mese scorso hanno messo due giapponesi, Misugi e Misaki Però in genere il Super Dreamfest di fine mese è un giapponese e uno straniero Sul giapponese siamo bene o male concordi tutti nel dire che molto probabilmente sarà Aoi Non mi stuperei a questo punto se lo straniero fosse Diaz Anticipato magari da un nuovo banner Samurai con Galvan e Pascal Per Samurai in questo caso intendo giocatori con la maglia ufficiale dell'Argentina Anche se poi non ho visto se è ufficiale o meno con la maglia Insomma ci siamo comunque capiti E' carino vedere come la club proprio fin anniversario si è ricordata che esistono anche le formazioni latine Anche se senza portiere Forse anche Maradona, Diaz non credo che cambi oggettivamente un granché Tra le altre cose Rock Frog ha anticipato che dovrebbero essere pronte due nuove versioni proprio di Misaki e di Misugi Cribbio, le ultime due sono uscite letteralmente 20 giorni fa o poco più di 20 giorni fa Anche qua presumo io che visto che il mese prossimo ci sarà l'anniversario dello scenario Next Dream Possano essere una nuova versione di Misugi con la maglia dell'Ajax E finalmente a Dio piacendo questa nuova versione di Misaki con la maglia del Paris Saint Germain Che sono tre anni che me la menano con sto Misaki del Paris Saint Germain Fosse che fosse la volta buona che veramente la club ce lo propone Ad ogni modo eventi nuovi sostanzialmente non ce ne sono Modifica delle tecniche speciali sono state modificate delle tecniche di Galvan e di Misugi Info dell'aggiornamento 9.6.0 lo abbiamo visto Una nuova interfaccia, nuovo raggruppamento dei vari scenari, nuova icona del gioco Campagna contro la rovescia per il festeggiamento del terzo anniversario dello scenario Next Dream Perché giustamente la club dopo due mesi e mezzo di anniversario, settimo anniversario della versione Jap Ci butta dentro in un terzo anniversario della versione Next Dream Anche per prepararci a di sempre quando poi ci sarà il settimo anniversario della versione Globa Su sto gioco viviamo di anniversari praticamente Apro e chiudo una piccola parentesi In realtà negli anni passati non è che gli anniversari dello scenario Next Dream fossero qualcosa di eclatante Niente Super Dream Fest, niente Super Dream Collection Sì una svolta netta del meta verso le squadre di club Però va bene, nel senso lo sappiamo e così praticamente da quando esistono gli anniversari in questo gioco Quindi nulla di nuovo Comunque per festeggiare il conto alla rovescia di questo terzo anniversario Nuovo banner Next Dream con Klyvert e Victor Valdez Io continuerò perennemente a chiamarli sempre con i loro nomi originali Perché per me quelli sono Più un'estazione a pagamento con altri giocatori di club Più un bonus accesso Già quest'oggi ci hanno dato qualche Dreambo Quindi va bene, i bonus accesso finché sono roba gratuita vanno sempre bene Nuovo scenario Next Dream più una serie di cose Dei negozi eccetera eccetera Che direi, i pacchetti a pagamento possiamo bellamente schippare Non ho ancora visto il nuovo scenario Next Dream Lo andrò a vedere al termine della registrazione del video Dele di zompare direttamente alle estrazioni E vedere come hanno fatto il nuovo Victor Valdez E il nuovo Klyvert Caricamento alterno permettendo Tra le altre cose La club questa settimana ha rimborsato Tutte le Dreambole spese nella Dream Collection di Urabe Per chi ha pullato Nella versione in inglese del gioco Perché c'era un errore di traduzione In una qualche tipo di abilità di Urabe Che non sono andato sinceramente a investigare Quindi quelli che sono arrivati al PT per Urabe Si sono visti rimborsare 1150 Dreambole Mannaggia loro Io da qua in avanti Terrò la versione in italiano su smartphone E la versione in inglese su emulatore Anzi no, il contrario Il contrario Visto che gioco più spesso su smartphone Però la versione inglese su smartphone E la versione in italiano Qui sull'emulatore Cos'anno i video li posso fare tranquillamente Con la versione italiana Sia mai che in futuro non accada nuovamente una roba del genere Ad ogni modo partiamo con i nuovi giocatori Klyvert Attaccanti di riporesistenza Carino perché ci saranno 5 o 6 versioni di Klyvert All'interno del gioco 4 su 6 sono di tipo resistenza È un monocolore praticamente lui Ha 1342 punti di stamina 53 d'attacco 39 di difesa 60 di forza fisica A livello statistico non è che spicca particolarmente in qualcosa Vabbè ha più tiro che altro Più che altro per la potenza 21.900 punti Ha un bonus però molto buono su palla alta Quello sempre da tenere in considerazione Super solidarietà Con 5 più giocatori dei club di tipo resistenza Parametri più 26% Più sono i giocatori dei club in campo Maggiore bonus e parametri Massimo 30% Fino a 3 giocatori 30% effettivamente È un terzo È un terzo Sarebbero tipo 6.000 punti sul tiro Sarebbero 6.000 punti sul tiro E 6.000 sulla potenza Non è malaccio Diventa mica male Poi sui colpi di testa Apriti cielo Lo sappiamo perfettamente Che il meta tornerà a essere di club Gradualmente partendo da settembre Quindi se volete portarvi avanti Diciamo che non è un brutto giocatore lui Colpo di testa distruttivo Colpo di testa è 5.50 di impeto Poi dribbling E combinazione sprint Che credo che non abbia bisogno di compagni particolari in campo Sigilla una tecnica speciale dell'avversario con cui avviene il contrasto Richiesta palla alta La palla arriva nell'area di rigore come palla alta Al 100% perché non vedo probabilità qui Quindi good Buono per lui che ha quel bonus di anche per alzarsela da solo Giocatori next dream parametri più 3% Giocatori europei parametri più 1% Quindi lui buono sia per chi sta giocando mono euro Che sia per chi vuole progressivamente Passare a una formazione di club e next dream Resistenza al terreno sconnesso Che ci anticipa che probabilmente arriverà un evento Dove verranno richiesti i giocatori del next dream E dove ci sarà il terreno sconnesso Fino a qui diciamo che ormai la club non ci stupisce più Vitor Valdes Portiere di tipo agilità 1.342 punti di stamina 45 e 100 di salvataggi Con 23 di parata 23.7 di parata 23.9 di potenza E 24 di maestria Non è malissimo Anche 21 di respinta è abbastanza equilibrato Tutto sommato Passaggio lungo Quando il portiere calcia la palla per passarla a un compagno La palla arriva al proprio compagno Più vicino all'interno della propria metà Più vicino verso la metà campo avversaria Ma all'interno della nostra metà campo Super solidarietà uguale a quella di Kluivert Ma con i giocatori di tipo agilità Parata da 5.58 Parata bellissima tra le altre cose Perché mi sembra Non vorrei dire una cavolata Che Vitor Valdes Una volta quel tipo di parata L'abbia fatta veramente Nella liga Non mi ricordo contro chi Però quando l'ho vista Non mi era proprio nuova come parata Vabbè comunque Al di là di questo Meno 8% di Bond Per chi volesse ancora provare a giocare debuff Con 3 o più giocatori del next game Killer del tiro Escusi quelli su palla alta e bassa Parametri più 10% Quindi anche contro i tiri raso terra Zona di sicurezza Contro i tiri da fuori area Un altro 10% Quindi contro i tiri da fuori area Lui si becca fisso un 20% E va bene Perché in questo caso Arriverebbe a 25 di parata 25 di potenza 26 di maestria Inizierebbe ad avere delle statistiche Più che decenti Cacchio adesso Non mi ricordo sinceramente Come sono quelle Degli ultimi portieri usciti Mi sembra che Si andava sui 25 Se non ricordo male Quindi lui potrebbe Eventualmente arrivare a raggiungerli Con tutti i vari bonus Aumento dei parametri Per i giocatori in extreme Più 2% Quindi tra lui e l'altro Arrivano a 5% Tutte e due Ammazza Il 5% con due giocatori Non è malvagio Come roba Annullamento del sigillo D'altra cosa Anche lui è europeo Quindi volendo potrebbe Anche andar bene Per una monoeuro Annullamento del sigillo Annulla fino a un sigillo Delle tecniche speciali Che ha subito E va bene Perché Valdez Non è che abbia proprio Mille mila Miliardi Di tecniche Da poterci Lasciar giù Allora Per chiudere in bellezza Sapete che io Quella da 30 Non la leggo a nessuno Anche se in questo caso Mi converrebbe molto di più A comunarne 40 Per i giapponesi O 50 Per continuare a pullare Su Urabe E si effettivamente In questo momento Chi me lo fa fare No mi dispiace ragazzi Volevo chiudere con un pull Vi lascerò L'amaro in bocca Va veramente No dai Chiudiamo lo stesso Con un pull Chiudiamo lo stesso Con un pull Andiamo su Urabe come sto messo Come step Ti manca ancora un giro Per vincere un SSR garantito Avevo finito proprio Il giro Il giro completo Va bene Chiudiamo con uno steppino Su Su Bannerino di Urabe E Wakashimazo Tanto dovrei arrivare A farle altre 35 Dreamball In 8 giorni Spero Prima dell'arrivo Di Aoi Almeno chiudiamo in bellezza Con una pullatina Per adesso Non ho potuto portarvi Pull Ho fatto due giri Completi Perché li ho fatti Col cellulare Ma la registrazione È andata A Ramengo Quando ero in In vacanza E non vi siete persi niente Perché ho fatto due giri Praticamente Completamente a vuoto Con solo i garantiti Quindi Lasciamo perdere Peggio di come mi è andata Fino adesso Non può andare La peggio andrà uguale E probabilmente Andrà uguale Perché la freccia Arancione normale Il pallone normale Sui cartelloni pubblicitari Non c'è niente Gli sponsor sono neri È volato a malapena Un uccello A caso Qualunque Tipo un petti rosso Quindi non mi aspetto Neanche le fiammelle Infatti Diciamo che vi ho buttato Ste 50 dreamball Per farvi Per farvi contenti Ok Va bene Dai ragazzuoli Per oggi era tutto Spero che il video Nella sua semplicità Vi sia piaciuto E nel caso Vi possa essere D'aiuto Vediamo la settimana prossima Pace belli Alla prossima Alla prossima Grazie.